Sempre sono state raggiunte e tenute come quel match d'esordio contro la Rega. Finire una giocata in qualsiasi momento, credo che lui doveva aspettare solo questo pallone, questo a volte lo porta a esagerare. E credo che questo fatturato fuori casa è riuscire a tenere la Virtus a meno di 83 punti. La sua mano sinistra lo spingono da... 9.30 su Erosport 1, la super sfida tra Rafa Nadal e Danil Medvedev, mentre Spagnolo prova in penetrazione, cerca un circus shot, come lo chiamerebbero in America, e segna anche il canestro. La Virtus è riuscita ad andare più avanti. 0 su 2 liberi per la Virtus e poi al volo Spagnolo riesce a segnare sulla sirena. Il canestro portano alla fine l'obiettivo e quindi potrebbe essere anche la stessa storia questa sera. Intanto Spagnolo segna i primi due punti della ripresa. Mentre Pecchia conquista il rimbalzo offensivo. Spagnolo per il tiro da tre punti e torna a segnare dopo tanto tanto tempo Lavanoli dall'arco. Il tiro, rimbalzo di Spagnolo, ci sono i numeri per Cremona, 3 contro 2. Spagnolo arriva al ferro e riesce a segnare un altro canestro, 16 per lui. Spagnolo, palleggio, arresto e canestro di Matteo Spagnolo. Spagnolo, anche il carattere e gli attributi per il 18enne di Cremona. Spagnolo, 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 spagnolo.